Collega Franceschelli, condivido le sue parole sugli agricoltori, confido che ci darete una mano per le parole che lei ha espresso nel dar loro le risposte che sono necessarie a partire dal tema della sburocratizzazione anche a livello nazionale e regionale che è un tema che condivido, che raccolgo e però anche qui mi si consenta, dobbiamo anche dirci le cose come stanno, dobbiamo anche dirci che una discreta parte dei problemi che oggi gli agricoltori hanno dipende anche dalle politiche, dalle scelte ideologiche, in alcuni casi folli che particolarmente la sinistra ha imposto in questi anni in Italia e in Europa. Ricordo ai colleghi, particolarmente del PD, che nel 2021 il PD presentò una mozione per impegnare l'allora governo a individuare una roadmap di uscita entro un tempo determinato dai sussidi ambientalmente dannosi che ne prevedano la loro rimodulazione e o eliminazione a partire dalla prima iniziativa normativa utile. Fu una cosa sventata dal centrodestra, l'obiettivo era togliere i sussidi al gasolio agricolo. Al tempo non ci si riuscì, questo governo ha prorogato i sussidi sul gasolio agricolo che sono esattamente quello che la gran parte degli agricoltori sta contestando in tutta Europa. La giustificazione era sempre il Green Deal, ma la transizione ecologica, come abbiamo detto tante volte, deve poter correre di pari passo con la sostenibilità economica e ambientale, altrimenti rischiamo di andare dritti verso la deindustrializzazione. Collega bevi l'acqua, dunque, iniziative concrete sul tema della pace, guardi, io come ho detto penso che per esempio le garanzie di sicurezza che noi abbiamo firmato e che voi avete contestato siano un impegno concreto in termini di costruzione della pace. Grazie.